Il fatto che il Parco del Mare o un autoaverso sia una piattaforma aperta è fondamentale. In realtà la storia di questo luogo ci racconta che era un luogo dedicato ad una sola cosa e oggi c'è bisogno di una riqualificazione urbana perché l'innovazione tecnologica, perché il mercato, perché il mondo è cambiato e quindi bisognava trovare una nuova destinazione. Il fatto che si pensi di fare una piattaforma aperta e quindi un luogo che può essere multiforme e prendere significato a seconda dei contenitori e dei contenuti che ci metteremo dentro è fondamentale per pensare a un progetto a lunga scadenza che possa sopravvivere alle inevitabili innovazioni e cambiamenti che ci saranno. Qua parleremo di natura, parleremo di animali, parleremo di ambiente e quindi anche il luogo che ospiterà tutto questo sarà una sorta di organismo vivente che cambierà a seconda dell'ambiente circostante.